Tieni una verticale. Tira su un po' adesso. Tira su un po' la neve. Vai, vai, così. Vai, vai, vai. Sì, ma perché ci sono due strati di ghiaccio. Ancora, fai ancora. Tira su, tira su, tira su. Tira su? Sì. Svita un po' perché è duro adesso. Vai, tira su. Vai. Ok. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok. Dai, adesso vabbiamo anche ancora. Vai, vai. Dai, dai, dai! Aspetta che c'è un po'. Ok. Boh, dovrebbe esserci. Teo, prova un po' a vedere se c'è. No, devi arrivare in fondo, non ti sbaglio. Cede, cede alla fine, cede. Vai. Aspetta che sono messo male. Siamo in due. Vai, vai! Sei come il matrimonio quando mi segara il troppo. Dai, chi sei, quando è arrivato? Aspetta che la seta stiamo spingendo. Vai, vai! Ma che c'è quasi? Dai, 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 dai! Cazzo, brucazzo! Ah, ma non mi piace! Ok, l'occhio non saltarla, eh! No, esatto. Ah, ecco. Vai! Vai! Ok, l'occhio non saltarla, eh! No, esatto. Ah, ecco. Sì. Ok, quello che si può fare. E' un po' più duro. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah! Non sei ancora arrivato. No, 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 no! No, no, no! C'è due strade, o no! Vedi che è un po' più duro questo. Ti è arrivato? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. wow non pensi che male